Queste ultime ore è arrivato un intervento di una parte delle minoranze consigliari dell'Isola d'Elba che chiedono chiarimenti sulla proposta presentata dal Comune di Portoferraio di utilizzare le risorse aziendali e quindi insomma sembra che si apra un ulteriore spiraglio per questa proposta. Ma prendiamo con una certa soddisfazione che finalmente dopo sette mesi di lavoro anche le minoranze incominciano a capire che l'utilizzo delle risorse aziendali per la risoluzione dei problemi sanitari dell'Isola d'Elba è sicuramente l'unico momento di utilizzo valido per uscire da questa impasse dove ci ha messo il decreto Valduzzi e il provvedimento del Consiglio regionale toscano che ha declassificato il nostro ospedale da ospedale di base a ospedale di prossimità. Noi siamo un'isola, siamo un territorio disagiato, siamo un territorio che ha peculiarità diverse dal resto del continente. Il progetto è stato proprio costruito con la collaborazione della CGL Cisle Will proprio tenendo conto di quelle che sono le peculiarità del territorio elbano e quindi la sua possibilità di rimanere isolato per condizioni meteomarine avverse ed infatti nel progetto si parla di utilizzo della rete solo ed esclusivamente per tutti quegli interventi che sono programmabili e cioè praticamente per le specialistiche di secondo livello tipo l'otorino, l'oculistica o l'urologia. Mentre per quanto riguarda la peculiarità elbana fondamentale che è quella del trattamento dell'emergenza urgenza e non soltanto ospedaliera ma anche di quella territoriale allora il documento prevede la presenza in pianta stabile di specialisti, di professionisti capaci provenienti sempre dalla rete ma che rimangono in pianta stabile sul nostro territorio. Quali altri punti possiamo intanto anticipare che riguardano appunto il progetto predisposto? Il progetto è partito diciamo subito dopo il periodo estivo, nei primi di settembre e è partito raccogliendo tutta una serie di dati statistici che hanno documentato come il nostro territorio oltre ad avere avuto una progressiva perdita di funzionalità medico-chirurgica ha avuto anche una progressiva perdita in termini economici perché sono così tanti i cittadini elbani che si rivolgono a strutture sanitarie diverse da quelle insulari per problematiche anche minimali, cioè quelle che vengono definite con DRG inferiore a 1 sono così tanti, dicevo, che la perdita economica per il nostro territorio è di circa 5 milioni di euro ogni anno in altre parole il nostro budget ogni anno viene calato di 5 milioni di euro perché vengono dati ad ospedali che fanno cose che potremmo fare tranquillamente qui all'isola d'Elba quindi il primo provvedimento più importante sarà quello di recuperare una funzionalità chirurgica onde evitare ai cittadini trasferimenti in altri presidi ospedalieri e recuperare una funzionalità chirurgica in emergenza urgenza attraverso l'utilizzo delle risorse aziendali perché operare all'isola d'Elba o operare in continente la differenza di alcune ore può fare la differenza fra la vita e la morte